Roberto Muccianti ha chiesto d'ottenuto il rito abbreviato per l'omicidio del vicino di casa Salvatore Russo, muratore di 58 anni, morto il 25 di aprile 2018 con 38 coltellate inferte proprio dal 51enne, arrestato in flagranza di reato. La richiesta è stata formalizzata dalla difesa questa mattina nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP Elio Bongrazio. La discussione si terrà il primo di ottobre. La moglie della vittima, Vittoria Ventrella, e i quattro figli si sono costituiti parte civile. Il PM, titolare del procedimento, Luca Sciarretta, contesta a Mucciante. Le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi, il delitto è avvenuto nel garage del palazzo dove vivevano Mucciante e Russo, rispettivamente al primo e al secondo piano, all'angolo tra via del circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Mucciante uccise il vicino di casa perché disturbato dai rumori a suo dire provenienti dall'appartamento della vittima. La famiglia di Russo è rappresentata dagli avvocati Andrea Cocchini e Alessandro Dioguardi. L'imputato Roberto Mucciante è invece difeso dagli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Di Sipio.